Vediamo che succede se vado in diretta Eh, ecco, è finita Adesso arriva Frank di nuovo in chat Io mi ricordo di ieri quando mi hai detto Le pillole lì Le bebe wewe Bebe wewe Bebe wewe, perché è un bimbo che piange No, dovrebbe essere tipo Bebe babai No Ah sì Eh, bebe wewe No, bebe, bye bye Non lo so No, è bye bye e bebe Aspè, è morto il bebe No, non nasce proprio No, bruh In diretta Lo conosci il baby man? Il baby man? Il baby man Di che colore è? Eh, dipendo E aranci con il tipo Tipo Verdognolo Non è un bebe Non è un uomo È baby man Tipo Tipo alieno Vannello mancante Sì, sì Mi piace Alto 30 centimetri Tipo Steven Cappello molto grande Come Steven? Ehi Esatto, però Le braccia più lunghe Vabbè Siamo lì In che senso? Eh Steven L'hai visto dal vivo? No Beh Preparati So che è lungo però Ho visto un video di lui Che rincorre la polizia Alla metro C'è anche un video dove lui rincorre tipo Una vecchietta con un bastone Sì, l'ho visto Tipo quella successiva era lui che rincorreva Senza tetto Però con un bastone Sì Il mio preferito è quello Tipo quella Nel sottofondo c'è tipo la musica Dei In King Park, vero? Esatto What I've done Vado a prendere l'acqua Vai vai Questa volta non hai detto Ah cazzo mi sono scurato L'acqua torno subito Che l'ho detto No hai detto Dai Non vengono in giro No non è vero Ho detto Oh cazzo mi sono dimenticato l'acqua Come non ci serve No hai detto Vado a prendere l'acqua No 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 ho detto due volte La prima volta ho detto Cazzo ho dimenticato l'acqua Serio? Sì Però la seconda volta non ho ripetuto la stessa cosa Ti credo Eh per favore Credo Oh Cristo Sono tutti impazziti Cazzo stanno facendo Eh uno è one shot Ok Che cazzo è Lì sotto Grande Vabbè Eccolo eccolo Vai prendere Prendere da sola È da solo Dove è Alex? Venga? Non lo vedo più Ok Eh io vengo qui con voi Ok andiamo Volevo cercare di salire Andiamo 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 su A Per forza Andiamo Andiamo Allora Non ha ancora responato i suoi amici Comunque Quindi siamo a posto Per adesso Ancora non ho Ancora non hai tanti Non mettiamo sta scala No Aspetta Ah Ecco Ho matto una mina Ah lo sai Il nuovo meta del Levi Sai qual è? Qual è? Utilizzare il coso della gravità Sul crash out Ah no Quello si E poi Mettere il gu Usare il gugan Per bloccarlo Nel soffitto Oh Che senso Molto figo È veramente una roba da pazzi Non ho mai visto nessuno farlo però It will happen Eventually Sa che arrivano da sinistra Ping Eh no Non li ho visti Però sento Rumorini fuori No no Oh Cristo Provate a scivolare qua sopra sul legno Un rumore strano Chi è? Sono io Non sparare Ma che sta facendo? Dov'è umpire le scale di fiancata Sono you crazy? No no Alex Sono you out of your mind? Ah ma sei qua Vedi? Si Il mio piano malvagio Dov'è umpire le scale di fiancata No Dove lo stiamo facendo a cash out così? Ah due team sono eliminati comunque Tanto lo so che adesso arrivano L'ultimo Eh no Stanno facendo il cash out al B Mi sa che stanno andando lì Però non lo stanno prendendo Che stanno facendo? Probabilmente staranno combattendo come dei figli di tutta Ok Vabbè Fortissimi Proprio Brrra 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 Perché sono responati tutti Potrebbero arrivare qui Arrivano All'altro Sono 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 Ecco Sto Non se lo aspetteranno Non se lo aspetteranno Eh Alex è cascato Per 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 Lo andiamo più Per E' uno morto C'è Per 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 C'è stato Per Di merda C'è un heavy qui L'avevo visto Eh si è spostato Ah intanto noi l'abbiamo preso Quindi Piano piano Buono buono Andiamo al vault 3 vai Oh sento passi Attento Alex Eccolo Vento Ok Ti curo Ok Ok Tanto C'è uno fuori Eh non vedo nessuno Non li abbiamo uccise Quindi stanno un po' Qui in giro Stanno già prendendo il vault 3 E quelli rossi Però ci sono gli arancioni Qui Passiamo esternamente Vieni qua Alex Qui Vi vedo Li vedo Vedi ok Hanno messo una torreta C'è una torreta Ah Nice Che cazzo è successo? Hai ruot Oh non so Sì è tipo caduta al soffitto È andata attraverso il pavimento Ok Stanno facendo cash out lì Stiamo Ma sbaglio ci sono arrivati Subito Ah li ho visti Sono lì eh Oh attento Alex Che c'è sotto Noi siamo ancora sopra Ok Può lanciare granate Stephen No No Alex Eh qui sotto Scusavo che sono morto davanti a te Come uno scemo Sparate al cash out Perché c'è una mina Lo fate esplodere Esplodono anche loro Ecco qua Ok Provo a risuscitare Oh no Niente Ah It's ok Prova Attento Piano piano Ok Tanto che c'è qualcuno lì Scappate 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 Eh C'è già provate Inzacazze Allora io potrei anche spenderli sti a sto punto perché sono troppo o se Perché mi sa che riesco a salire Eh loro stanno quasi per prendere capito Cazzo c'è S'hai visto Perché Non ti ha sparato No 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 Non ho messo giù la torretta Avevo qualche motivo Oh Hai messo in modo strano la camera Ando c'è per sparare Avevo giù la torretta Ma non ho messo giù Tutto ok Sì no potevo tranquillamente spendere i soldini Secondo me Allora Non so se riusciamo Non so se ci riusciamo Non è troppo lontano Dovremmo Sì andiamo al centro C'è Alex Ok C'è qualcuno Non credo Non ti devo esplodere Eh sì qui 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 Dov'è? Lì 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 Ci sono qualcuno ma Sono morto Alex Gesù c'è Grazie Merda ma sono morto Eh sì Grande hook Eh C'è soltanto uno Ce n'è soltanto uno Nice Ok vai Puoi prenderci Very good Tanto che 60 spari Sì No no Qua È andata nel vino Nice Eh vede Ce n'è un altro là dentro Tanto ok Almeno Sto lanciando granata Attento lì dentro Dai Mi sa che ti ho preso io eh C'è qualcuno che sta colpendo il mio terreno Oddio mi sono bloccato Che cazzo Ok Sono qui dentro Ma dobbiamo mettere il cash Sono lì Sono dentro Sono dentro Punta punta Sono qua Sono qua Aiuto aiuto Ok No Dietro di qua c'è un'altra Comunque Sto per mettere Sono giù Cazzo No dietro Vieni Alex No è già finito Eh bisognava correre C'è che non l'ho visto All the time What the fuck Sì Eh bisognava correre Eh dico Tutto a cazzo Cazzo No No La 2-6 abbiamo tipo Perso di vista il cash out E non abbiamo Non siamo tipo scappati con quello Si sono persi nella salsa Yeah Però Stava giocando bene Dai Sì Un pro Stava Stava Un pro Sì Stava il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info la musica su stessi per un'unica malattia e' molto divertente anche quella rispetto per favore rispetto rispetto no io non ho capito cosa hai detto la musica questa musica spinge è ormai finita io l'ho mutato perchè mutate la musica? beh io adesso l'ho mutata perchè sto sentendo un'altra canzone che mi sta prendendo un sacco cioè in stasera è quello che ho messo sul mio canale telegram molto molto bella di una vtuber tipo un con un'animazione tipo rotoscope mischiato con roba irl molto carino lo conosco steve quindi te la fai con le vtuber no non lo conosce è il nuovo tipo di ieri steve se la fai con le vtuber vabbè ho visto mi sa che no non lo vero non lo conosco ok 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 disconosco io lo faccio oh ma se ci pensate c'è scritto day finals qui nel pavimento se ci pensiamo però se non ci pensiamo solo se ci pensate esatto ho visto qualcuno ragazzi ci sono dei pezzi di me dove è? sta giù la giù dico ho messo bro ho messo una piesta mentre la porta bro ho fatto attento alex ragazzi tornati sono morto per colpa tua eh ho cagato nel puzzo ma ti può tantissimo eh dario mochia contattami che cazzo è sta cosa? cosa? dario mochia contatto? ok cos'è che ti registro lo mando a dario mochia e ti... e mi contatto devi saltare come? no per rompere il vetro col gomito lo prendo io lo prendo io devi saltare sicuro? da dietro al muro? bruh si sei qui no andiamo su ok sopra sopra uccidiamoli tutti chi è stato a rompere? non ne ho ok andiamo su fu un culo è casciata che sciata eh che sciata eh sono già cercano di rubare qua ok aiuto arrivo steve sto rubando sto per morire però eh ti esplode no mi ha coltellato un tizio eh light grandi ragazzi si è bucato eh si attenzione che c'è un best no alex c'è il fuoco ma porca ma non ero lì ero nell'angolino oh oh attento scappa eh 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 ok vai da alex che c'ha il gun cioè ti ti oh mio tio penso fosse alex ok respawn alex arriva arrivo ucc e niente sono morto ma l'ho portato con me nella tomba mio cristo dai cos'è? è stata la strazza robinson goo l'autocam ok più che altro cosa? niente sto parlando con il mio madre del telefono no no ah sto giocando ad un gioco come pensavo avessi quel tipo di relazione no no figure d'accordo perché pensavi preferivi che scrive la tua madre questo è quello che bisognava non commento non commento non commento è assurda no stavo benendo comunque ehm che vuol dire vabbè andiamo a prendere un'altra volta stupro sicuro non vorrei ah ok ok ma andiamo bene bbbiamo mi sa che non ce la facciamo blood no però 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 qua c'è la liana vai si non ce la facciamo ho visto un tizio bloc ok ho ucciso uno ok no troppo tardi ho ucciso qui 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 si dove cazzo sei? è letteralmente afk quell'uomo grazie grazie la vostra vita attento mi hanno fatto il giro sono morto bene dobbiamo correre beh vai corriamo più 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 stiamo andando dove? 4 o 3 andiamo su D su D su D dove? qua oh oh nice abbiamo qui il vai grande andiamo a cazzo 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 l'ho fatto cadere eh dovrebbe risalire in automata cazzo ragazzi aiuta buttati giù Alex buttati giù no ma c'era un altro tizio di me non ho visto bravo Alex vai ma non ci voglio credere è sbocato dal muro oh attento sbagliato tutto intercettori mi ha messo si è da solo è da solo il large mi sa che sta vediamo un po' se sta come ah no scusa ho detto cacata stavo guardando il team arancione mi sa che hai dietro sorry cazzo tetra cercare di sa che mi hai detto io non posso neanche dire perchè non è neanche il vento che spero scuosi su un colore capito capito sono stupido basta io ti accetto non solo grazie io sono dentro ma scopo capito attenzione l'alex arrivo che ti curo oddio sono cascato in fondo ragazzi che cazzo come è possibile sta cosa se lo prego sotto sotto aspetta eh adesso arrivo no non ce la faccio però a prenderla mi sa aiuto 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 no shite eh dobbiamo andare per forza prendere un volto ragazzi ma cos'è che sto sperando eh c'è un tizio qui dove dove qui sotto però boh non so se ne vale la pena esatto dai dai andiamo 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 c'è l'unione qua eh un minuto lo facciamo we can do it we can do it oh che ti odio perchè? hai fatto esplodere il vetro sotto i miei piedi ah aspetta è sotto i tuoi piedi io credo stavo sparando da alex te lo giuro ahah ti lo giuro allora io mi metto mi metto in punto tattico così voi me lo passate con a new vault i nostri contestanti better not leave that unattended for two minutes no stadi volevo mettermi in un punto tattico così me lo lanciavate e lo potevo prendere al volo tipo però niente sorry sto prendendo? vai 14 secondi corri 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 non prendermi neanche just go come cazzo ci arrivo l'apera? non lo so somehow corri 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 lancia lancia vabbè l'ha detto l'ha detto ecco niente registrato in live stream vero ehhh per forza terriomoce contattami è stupida sta cosa ok non contattarmi veramente soltanto con un un beat non credo ti sentirà mai non sei sicuro magari si magari è tipo a quest'ora sveglio ed è una di quelle serate dove va in giro su twitch a cercare persone a caso e invitarle tipo nelle sue live stream a parlare di cose non ho mai mai visto quel mai visto a quest'ora no io le vedo sempre bravo a quest'ora no sono un fan svegatato gli animati a devo mi mi merito di stare nelle sue live stream ma a me scusa a me steve come? a me? a me steven comunque ma c'è qualcuno che ti sta scrivendo in chat ma chi? si in stream scusa che stai dicendo? c'è qualcuno che ti c'è qualcuno che ti c'è qualcuno che sta scrivendo in chat no no non sono in stream sei un bugiardo boh di una delle tue alex dai una delle mie? si eh non escono quando le devo selezionare ah bene escono solo quando ma hook in tutto questo quando escono? ah non ci sta oh hook hack è andato ma è meglio oh è tornato cos'è successo? che prometti? eh? oh? prometti? ma che stai dicendo? what do you promise? ho chiesto? 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 vuol dire caccare nel puzzo? non mi ha mai risposto ma chi ha detto? ho chiesto? dai perchè non vuol dire? non mi dice le cose io voglio capire le cose io voglio capire le cose ci sono gli umani ignoranti è mai right comunque veramente non veramente non sei in stream Alex no 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 si che in stream sono un bugiardo non mi fiderò mai più vita ma se sono in stream allora perchè nessuno ha pagato per fare un snitch? no volto un bugiardo giardo è tipo il nome del vecchietto che al telefono che pensa che è rotto perchè i nipoti non gli scrivono vero c'è bantuno c'è bantuno se ne ho qua? ok ho messo io il gulli eh madonna ma che cacchi di merà quel tizio è che sono incastrato eh come sei incastrato? non so come cazzo salire oddio sei incastrato per davvero ok ok sto a ridurre il mio gu attento attento lì sopra ti hanno chiuso si lo vedo oh attento un tizio light qui dietro eh sono morto di nuovo sono morto addirittura con una bomba no arrivo eh ti seguo Alex ok oh che siamo qui sotto eh no stiamo andando a cash cash at eight veda salute saloon sapeva di marmellata che merda che buono non sare dov'è sono sicuramente qua sono sicuramente qua raga mettetevi agli angoli delle stanze angoli 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 o c'è uno sniper lì attento faccio cascare sento che c'è una barriera attento arrivo faccio cascare questo bastardo guarda cazzo non riesco a salire sono morto aiuto se ci riuscite corre 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 ma non ci voglio crede non ci voglio crede sono morto da solo oddio esplodono? no non ho lanciato ho fatto cazzare mi sono mosso troppo verso l'est non c'è che non c'è che dovevo stare fermo i steamrollers prendono la ruota in questo match è ok non ho capito se il problema è stato che ho colpito il bordo della porta o te o il tuo corpo e mi ha fatto esplodere da solo non so oh no fuck you ah sorry sto laggando sono su perchè hai detto fuck you no stavo stavo parlando con gli avversari ok 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 per cosa? ahhh sto laggando mi sa per la stream ahhh 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 Grazie.